Il 305 Outback con l'antenne da Pecco 1000 e il microfono sfasciato per l'uomo Siamo un lero razziocorto con quanti siamo ritornati sulla barra pesante alla vecchia maniera Abbiamo montato tutto quanto e adesso cerchiamo di divertirci C'è servizio Carletto Ufo alle porte di Milano che ti abbraccia e ti saluta Carlo, ti sento una bomba, non ti preoccupare, vai bene, la gallina vecchia fa sempre buon brodo Avvicinamento, svincolo di patti, binario Palermo, Lello ti saluta Ciao Lello, Radio Colto, io dopo 15 anni ti risento Dopo 15 anni siamo ritornati sulla barra pesante ma come diceva mio nonno I cavalli di rasso si guidano a lunga distanza